Oggi 16 luglio si festeggia ad Agropoli la Madonna del Carmine, patrona del Rione che porta il suo nome. In mattinata si sono celebrate le sante messe nella piccola chiesetta. Alle ore 12 si è svolta la supplica alla Beata Vergine. Nel pomeriggio alle ore 18, accompagnata dalla banda musicale Città di San Mauro Cilento, partirà la solenne processione che porterà la statua della Madonna in alcune vie della cittadina. Si partirà da via Madonna del Carmine e si proseguirà per via Taverne, viale Lombardia e passando per via Piodecimo si ritornerà in chiesa dove verrà celebrata la Santa Messa. In serata alle ore 21 sul piazzale Madonna del Carmine si esibirà il gruppo musicale Sband con la partecipazione del comico Antonio Fiorillo. Alle ore 24 si potrà assistere ai tradizionali fuochi pirotecnici a cura della ditta di Muoio Carlo di Batulla. Agropoli è una cittadina di grande tradizione mariana. Sono molte infatti le feste dedicate alla Vergine, che con le sue preghiere intercede per noi fedeli con il Padre.